Was, van, vo? Cosa, quando, dove? Il calendario delle attività culturali della settimana a cura della Fondazione Cassa di Risparmi. 14 aprile, Musica Atomic, Piccolo Teatro Carambolage, Bolzano, ore 21-23. Film Zoran, Il mio nipote è scemo, Film Club Capital, Bolzano, ore 17. Conferenze, le sorprendenti capacità cognitive dei Corvi, Biblioteca Provinciale Tesman, Bolzano, ore 20.